Ciao, oggi parliamo dell'etichettatura dei capi di abbigliamento. Pochi anni fa è uscita una nuova normativa che obbliga tutti i produttori di abbigliamento ad indicare in maniera esatta quelle che sono tutta una serie di indicazioni presenti in etichetta. L'etichetta è una sorta di carta d'identità dei capi che i vostri bambini andranno ad indossare. Deve essere indicato chiaramente il produttore della t-shirt o della felpa e la fabbrica in cui viene prodotta la maglietta. Una volta si indicava semplicemente prodotto extra UE, prodotto importato, senza indicazioni specifiche sul paese di appartenenza, mentre adesso è obbligatorio da qualche anno indicare esattamente il paese di produzione e l'azienda che produce il capo stesso. Oltre alla composizione della maglietta, nello specifico abbiamo una maglietta 100% cotone, tutto questo è una sorta di marchio e carta d'identità del capo che i vostri bimbi andranno a mettere. una garanzia e un'autenticità del prodotto che voi andrete ad acquistare. Il mio consiglio è sempre leggete le etichette perché dalle etichette si possono recepire tantissime indicazioni che sono un po' l'indice di qualità di quello che andrete ad acquistare. Ciao e alla prossima!